Ciao a tutti da Boderac, in questo video torniamo a parlare di lavapavimenti Tineco, più nello specifico della serie S5. Infatti non hanno lanciato solamente un modello, ci sono sul mercato da parte di Tineco tante varianti, pensate per diversi clienti, diversi scopi. Oggi con questo video cerco di orientarvi nell'acquisto, vi racconto le differenze, quale secondo me fa a caso vostro. Per tutte le recensioni comunque trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Oggi vi parlo dell'S5, S5 Steam, S5 Combo Power Kit, ma non sono le uniche varianti disponibili per l'S5, ce ne sono tante altre. Ho selezionato queste perché sono quelle che ho effettivamente provato e sono quelle che hanno le caratteristiche principali differenti. Poi c'è per esempio l'S5 Pro 2, si chiama real display più bello, una funzione in più, ma non è che si distacca tantissimo rispetto all'S5. L'S5 Steam è proprio tutt'altro prodotto e anche l'S5 Combo, tutt'altro prodotto. A proposito di S5 Combo, anche qui abbiamo due varianti, l'S5 Combo normale e l'S5 Combo Power Kit. Quello Combo ha la funzione lavapavimenti che permette poi di trasformare il dispositivo in un aspirapolvere, aspirabriciole. Poi c'è la versione Power Kit che fa la stessa cosa, ma in più ha tanti altri accessori per trasformarlo in un aspirapolvere vero e proprio. Lo so, già siete incasinati, ma cercherò di utilizzare tabelle e immagini per farvi capire bene di che cosa sto parlando. Prima di andare a toccare le differenze dei vari lavapavimenti, cerchiamo di capire gli aspetti comuni della serie S5. Abbiamo un lavapavimenti che aspira sia secco sia l'umido in termini di sporcizia. Se abbiamo due serbatoi, acqua pulita e acqua sporca, in base al modello cambia la dimensione di questi serbatoi. Per quanto riguarda il sensore i-loop, che è quello che rileva lo sporco e l'umido, è più o meno uguale in tutti. Abbiamo questo cerchio sul display che diventa rosso quando rileva lo sporco e quando c'è tanto sporco aumenta la potenza di aspirazione e anche la quantità di acqua da versare nel rullo. Ciascun lavapavimenti di Tineco è anche motorizzato, quindi seppur qualche macchinario pesa tra i 3 e i 5 kg, non hai nessuna fatica a trascinarlo, perché lui a trascinare te puoi gestirlo addirittura con un megnolo. E questo evita di affaticarsi durante le fasi di pulizia e soprattutto aumenta anche la velocità della pulizia rispetto a un mocio. Vi presento adesso le caratteristiche principali di questi tre modelli. L'S5 è quello normale, un lavapavimenti e aspirapolvere classico a batteria. L'S5 Steam invece va con il cavo, quindi non abbiamo più la versatilità della batteria, ma abbiamo il vapore. Quindi stesse funzioni dell'S5 normale, ma in più questo getto di vapore, grazie alla caldaia integrata, che ci permette di pulire meglio le macchie appiccicose, incrostate, che magari con un lavapavimenti normale non riusciamo a fare. L'S5 combo, cosa di speciale? È come l'S5 a batteria, ma all'occorrenza si riesce a smontare. Il corpo del motore diventa un aspirabriciole, grazie agli accessori dotati. Se avete la versione power kit, addirittura potete agganciare il braccio di un aspirapolvere e togliete tutto l'aspetto lavapavimenti e mette praticamente due dispositivi in un unico device. Ora, per capire bene i pro e i contro, dobbiamo vedere le specifiche tecniche. Partiamo dai serbatoi per l'acqua pulita e l'acqua sporca. L'S5 è normale, ha l'acqua pulita 0,8 litri, mentre l'acqua sporca 0,7 litri. L'S5 Steam abbiamo 0,75 litri sia per l'acqua pulita sia per l'acqua sporca. Per l'S5 combo power kit abbiamo il serbatoio dell'acqua pulita da 0,5 litri, mentre l'acqua sporca 0,45 litri. Già da queste specifiche iniziate sempre di più a capire a che cosa serve ciascun modello. L'S5 e l'S5 Steam sono pensati per appartamenti medio-grandi, fino addirittura a 130 metri quadri, secondo le specifiche di Tineco. L'S5 combo si può pulire e lavare, ma con un'autonomia inferiore e quindi riesce a coprire, secondo Tineco, massimo 90 metri quadri. Io vi dico che secondo me parliamo addirittura di 60 metri quadri, perché adesso tocchiamo l'aspetto autonomia batteria. L'S5 normale offre ben 35 minuti di autonomia. L'S5 Steam, non sto neanche a dirvelo, essendo dotato di cavo, vi permette di avere autonomia infinita per l'aspetto funzionamento, mentre l'S5 combo power kit 20 minuti, che iniziano a diventare pochini. Attenzione però, ok, abbiamo nell'S5 Steam il cavo, però può essere un pro incontro. Sì, abbiamo l'autonomia infinita, tra virgolette, a parte svuotare i serbatoi quando serve e riempirli nuovamente, ma questo cavo, quando ci muoviamo, comunque è un po' ostacolante, se si può dire. Si può dire ostacolante? Parliamo adesso di spazzole su S5, S5 combo power kit. Abbiamo spazzole molto simili, borderless, che ci permettono anche di pulire i bordi battiscopa, cosa che su S5 Steam non c'è. Parlando di app smart, abbiamo l'S5 e l'S5 combo power kit, che si connettono a un'applicazione, l'applicazione di Tineco, che permette anche di aggiornare il firmware, di mettere una lingua italiana, di sapere sempre a che stato sono i consumabili, di sapere attraverso dei filmati cosa fare in caso di problemi. Sull'S5 Steam non c'è l'applicazione e non c'è modo neanche attualmente di cambiare la lingua in italiano, cosa importante se dovete regalarlo a una persona anziana, magari non conosce l'inglese, ecco, tenete in considerazione anche questo aspetto. Certo, si può sempre disattivare l'audio e tenere in considerazione solo le icone, però capisco che ad alcune persone è essenziale avere una lingua italiana, un assistente vocale che aiuti a capire che cosa fare all'occorrenza. Toccando l'aspetto dei detergenti, S5 e S5 Combo Power Kit hanno bisogno del detergente non schiumoso, già incluso all'interno della confezione, se dovesse finire c'è su Amazon la ricarica che potete acquistare. Su S5 Steam non avete bisogno di detergenti, perché? Perché c'è il vapore. Il vapore funge, tra virgolette, da detergente, anzi, forse anche meglio, e funge anche da miglior pulitore nella fase autopulizia della spazzola. Prezzi? Abbiamo l'S5 normale che di listino costa 519€, poi abbiamo il Tineco S5 Steam che di listino costa 449€, e poi abbiamo il Tineco S5 Combo Power Kit che costa 549€. Sono tutti prezzi di listino, ma non puoi basare il tuo acquisto, secondo me, sul prezzo. Perché sì, l'S5 Steam è il più economico, l'S5 Combo Power Kit costa 549€, il più costoso di tutti, ma non significa che è il migliore. Dipende tutto dalle tue esigenze. Infatti, io ti chiedo adesso di prendere una bilancia e di mettere un peso. Tu vuoi mettere un peso maggiore sulla comodità o sull'efficienza di pulizia? Ti do del tempo, dimmi tu. Allora, se hai scelto comodità, i migliori modelli che fanno a caso tuo sono l'S5 e il Tineco S5 Combo Power Kit. Questi due dispositivi sono dei dispositivi che funzionano a batteria. Hai capito all'inizio del video che l'S5 normale è pensato magari per chi ha un'abitazione piuttosto grande. Se hai un'abitazione piuttosto piccola, l'S5 Combo Power Kit è piuttosto utile. Perché non solo hai la funzione lavapavimenti e 20 minuti, vi assicuro, su un appartamento di 60-90 metri quadri è sufficiente. Magari dovete svuotare il serbatoio dell'acqua sporca più volte, ma avete questa comodità assurda, ovvero quella di avere anche un aspirapolvere. So nelle case piccole quanto è essenziale avere un dispositivo che faccia tante cose senza avere 20.000 modelli tutti differenti. Quindi se avete una casa piccola, S5 Combo Power Kit. Se avete una casa grande, S5 normale. Se il tuo peso è andato invece sulla scelta efficienza di pulizia, l'S5 Steam è quello che fa a caso tuo. Perché è quello che è in grado effettivamente di pulire qualsiasi sporco grazie al vapore. Il vantaggio è anche sul prezzo, perché parliamo di 449 euro di listino con gli sconti scende a un prezzo molto basso. Però ci sono anche degli svantaggi che devi tenere in considerazione, come ad esempio la presenza del filo, che non è un grosso svantaggio. Devi stare solo lì attento ogni volta a mettere a posto questo filo. Comunque è bello lungo, quindi non è che devi staccarlo in continuazione, è di intralcio tra virgolette. Dai, possiamo dire così. Non avete la spazzola borderless per pulire bene i bordi, non avete l'applicazione per far parlare in italiano il dispositivo. È per questo motivo che ti ho chiesto di dare un peso alla comodità oppure all'efficienza di pulizia. Perché capisci che effettivamente c'è una bella differenza. Spero che con questo video ti ho un po' schiarito le idee e qui sotto in descrizione trovi tutti i link per acquistare questi lavapavimenti direttamente su Amazon. Ti consiglio anche di seguire il mio canale delle offerte, perché spesso quando questi dispositivi vanno in offerta, io te lo segnalo. Sono dei dispositivi che tengo sempre monitorati ogni giorno. E se hai altri dubbi dopo questa spiegazione, ci sono i commenti e possiamo insieme arrivare a una soluzione che fa a caso tuo. Va bene? Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!